L'Umbria è pronta ad affrontare l'emergenza, ma per farlo l'Umbria deve restare aperta. È il messaggio che arriva dalla governatrice Donatella Tesei a conclusione della conferenza stampa d'illustrazione dell'ordinanza governativa emessa per affrontare l'emergenza coronavirus, che sta mettendo in ginocchio non tanto il sistema sanitario quanto quello economico e imprenditoriale dell'intero paese. Affiancata dal prefetto Claudio Sgaraglia, la presidente della regione ha spiegato i contenuti del protocollo, ma soprattutto ha voluto esortare la comunità regionale a reagire. Aiutiamoci tutti a non generare una situazione come quella del post-sisma del 2016, ha puntualizzato la presidente. Dopo grande fatica questo era il momento della ripartenza e non dobbiamo ripetere l'errore fatto in passato con l'immagine non giusta che era stata data dell'Umbria. Questa è un'ordinanza che tiene conto della nostra situazione, può essere modificata secondo le evoluzioni che andremo a riscontrare nei prossimi giorni. Al momento però voglio dare veramente un segnale tranquillizzante. L'Umbria è una regione che è già pronta ad affrontare delle problematicità in questo settore laddove si dovessero manifestare. Ci stiamo portando avanti su tutto, lo abbiamo fatto già da giorni e siamo pronti con questa macchina, però l'Umbria deve essere aperta e quindi le scuole rimangono aperte, seppur con tutte le cautele che questa ordinanza stabilisce con tutti i presidi che sono pronti ad affrontare qualsiasi evenienza, ma noi questo segnale lo dobbiamo dare. Non possiamo farci prendere dal panico, non possiamo creare ulteriori problemi alla nostra popolazione, alla nostra economia e quindi su questo c'è un'attenzione veramente molto alta. Presenti nel parterre i componenti della giunta regionale, alcuni consiglieri di Palazzo Cesaroni, ma anche i sindaci di Perugia eterni, a conferma di come l'attuale fase richiede il contributo e lo sforzo di ogni livello istituzionale. Per la governatrice occorre far fronte a questa situazione che interessa maggiormente, le regioni colpite di più dal virus e che spingono il pilo italiano, ma anche una regione come la nostra. Forse è vero, ha proseguito, abbiamo fatto qualche tampone in più finora, ma adesso l'obiettivo è quello di aiutare le nostre imprese a comunicare che l'Umbria è visitabile ed aperta. Tesei ha ricordato quindi di aver chiesto al governo di intervenire in questo senso, visto che l'Umbria, ha detto, stava per aprire la stagione del turismo, oltre ad annunciare che pure come giunta si sta lavorando con interventi a sostegno di settori e imprese. Se siamo uniti ce la faremo, ha concluso, e possiamo essere così di stimolo anche per altre regioni. Cerchiamo dunque di vivere la nostra regione, di far vivere le nostre aziende, dando un segnale positivo. Intanto continua a destare preoccupazione la situazione economica conseguente al clima di psicosi, che pervada a livello internazionale l'opinione pubblica. Nuovo allarme viene lanciato in queste ore dal mondo delle imprese del turismo tramite Confcommercio. Le nostre stime, dice Giorgio Mencaroni, presidente regionale in una nota, sono pesantissime. Gli alberghi Umbria hanno registrato oggi oltre il 70% di disdette nel breve periodo, ma la situazione è estremamente fluida. Da maggio in poi sappiamo solo che in molti stanno già verificando la possibilità di rinunciare a venire in Umbria, che c'è l'azzeramento del turismo scolastico, che molti grandi eventi sono già stati annullati e altri sono a rischio. Le agenzie di viaggio si trovano a fronteggiare una situazione pesantissima tra disinformazione, rimborsi per viaggi mancati, difficoltà nel recupero di servizi già pagati ai fornitori e mai utilizzati. Bar e ristoranti stanno accusando pesantemente il colpo e anche le guide turistiche sono in crisi, come tutto l'indotto, esercizi commerciali di vicinato compresi che ruota attorno al turismo. Insomma, in Umbria è una fetta importante dell'economia regionale, sta andando il tilt e questo senza che ci sia un solo caso accertato di coronavirus.